Vi leggerò Singletudine di Giovanni Nadiani dalla raccolta Law Society. Ah sì, uno da parlò e sta bene, non è che uno da parlare, la purana. Ah ma c'è un film, non è che uno c'è proprio un po' di questi modi per incontrare, perché ormai siamo tutti lì, con lì, senza fili, ma tutti i colori del computer. Ma troppo tanto le lettere, le mail, non c'è più. Tutti chi vuoi che vuoi da me, e me non conosce. C'è chi vuole il mio profilo, non c'è chi vuole il mio password, ma c'è chi vuole il mio password. Ma c'è una cornea che mi tocca sempre dire con i fruttini che mi metto in casa, che mi metto tutti questi pezzottini perché tutti questi nomi a me non mi ricordo più tutte le lettere, e non sbaglio sempre. O se no, come questo, questo è un volendere di viagra. A me! Che mi è grande, di viagra, e voilà. A me è proprio che sai chi è che è a Dio che mi indirà. Questa che qui invece vi è questa la purana, eh? Questa è la scelta che l'ha sempre parlato per sé. Vedete? Ho avuto la capace a me? Ma... La singolitudine non è una brutta bacia. Ma... La dici che l'hai bisogno di compagnia. Con me è per fortuna che ho fatto il corso d'inglese alla circoscrizione. Che c'è a me adesso? A questa hai dà una mano, via. Allora, cosa ti dici? Hello. Hello? Not long ago, I was sitting alone in the park. Che c'è? La purana? Da per lì lasci eras marito in the park. See? I was so lonely. It was so boring for me. And at that moment, I thought about everything. Allora, lì è... La che c'è? Da per lì lasci eras marito in the park. See? I asked it myself. Why the world is so cruel to me? Why I love children? I love this life? I try to help almost everybody. But I am so lonely. La chmandeva perché il mondo? L'execchettiva con lì, eh? Clavo bene i bordelli cui pisce la vita. L'acerca dè una mano a tot. E ne acceda per lì. Così sola. So lonely. Acceda per lì da metti 10 punti esclamativi. Lì hai messo 10 punti esclamativi. And then I have decided to find you. the best man in the world. E poi l'altro è, accerchiamo a me. L'homan made the money. Best man in the world. Mè, hai capito? No. Quello è vero, ecco. No, l'homan made the money, ogni epoca qua. Ecco. Who is able to love me, to take care, e understand me. Capace di amarmi, di prendere sicuro di me, e di capirmi. Ma io non ho capito capire. Ma in questa tua situazione, come, I understand you. Asso qua apposta. Allora. I need you, please write me. Ah io ho bisogno a te, scrivo. Write me. Allora. e-mail. Yutmille. 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 Allora. Yutmille. C'ho. La mamma bene con la fotografia. Yutmille. 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 e-mail. 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 I-mail. E-mail. 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 col me